Bloccano la metro, tirano il freno d'emergenza Nessuno vi tocca! A chi hai rubato tu prima? Dov'è il portafoglio della signora? Dov'è il portafoglio che hai preso? Eccone una che ha tirato il freno d'emergenza Intanto vi sto identificando Tanto vi conosciamo, tanto Stanno salendo a rubare anche stavolta Signori, attenzione! Attenzione, borseggiatrici! Attenzione!